Genico Legione, siamo in maggio 2019, sono in compagnia di Cera Bobba che conoscete benissimo, che è Reduce ormai, affaticata come potete vederla, da un workshop, una giornata di workshop su web, writing, blogging e base della comunicazione 3.0. Ci sono stati vari docenti che hanno parlato appunto di una serie di materie, composizione e così via, gestione dei siti, varie discipline e sottodiscipline. Cera tu sei sul campo in trincea come blogger da parecchio tempo, ti sei fatto una bella esperienza? Allora io ho iniziato a battere necrologi quando avevo neanche 15 anni, quindi diciamo che la comunicazione me la sono fatta un po' dal basso. Ho iniziato nel 96 a vedere internet, nel 98 già progettavamo una sorta di giornale, mi ricordo che già mettevamo la prova dello sfondo nero testo bianco e lo cassammo perché ci sembrava una sciocchezza e oggi vedere Open che scrive in bianco su sfondo nero mi lascia un po' perplessa, però forse è un marchio di fabbrica, loro se lo possono permettere, noi no. Vabbè però insomma hai fatto in qualche modo scuola, in qualche modo è in linea con quello che ci diceva Forzi a Dabo poco fa, insomma il non diritto d'autore, l'open source e la circolazione delle idee. Beh guarda, io sono dell'idea che tutti hanno il diritto di fare informazione, comunicazione come tutti hanno il dovere di informarsi e di comunicare e come lo si fa, questo è basilare, è libero, io scusate sono un po' deslassica, ho un po' tante parole, quello che ho provato a trasmettere oggi è che è assolutamente necessario seguire delle regole, nel web soprattutto se non segui delle regole impostate e sai se fossi molto di destra oggi direi ordine, regole e disciplina, in realtà è così, ci vuole ordine nelle idee, ci vuole rigore e disciplina nel seguirle, nel metterle in pratica, se no il motore di ricerca non ti pesca e ti viene oscurato. Quando però queste regole le hai fatte tu e le hai capite devi essere capace a smantellarle completamente e a crearti un'identità. Quest'identità è riconoscibile senza barcode ma come lo è anche il LibriTV, tutti ci dicono fate i video brevi, quattro minuti, no se ne frega il LibriTV, se è una cosa dura un'ora, un'ora manda. Quindi secondo me il genio sta lì, nell'avere imparato come si fa e poi farlo come ti pare. Allora, intanto ringrazio Sheila che in qualche modo ci hai dato della genialità a tutti quelli che contribuiscono al LibriTV, siamo pochissimi, però insomma cerchiamo di fare il possibile e soprattutto sì, effettivamente non stiamo appresso ai tempi. Parliamo di senza barcode, senza barcode appunto che fa un sacco di cose da ormai siamo coevi quindi abbiamo la stessa età. Sì, siamo nate il 12 settembre 2012 su una piattaforma gratuita, Alter Vista. A dicembre 2012 abbiamo creato il dominio di primo livello, nel 2015 nasce l'associazione senza barcode, un è strumento dell'altra, cioè il sito è strumento dell'associazione e viceversa. Oggi passiamo veramente di tutto, non perché siamo i tutologi, ma perché mettiamo sotto il cappello della comunicazione, tantissime cose, le presentazioni di libri, piuttosto che giornate come questa, piuttosto che momenti di approfondimento come è stata la conferenza stampa con il dottor Santana di Pompeo quando parliamo di ricostruzione della mammella dopo l'operazione per il cancro al seno. Insomma, è tutto diritto di informazione. Noi abbiamo il diritto di conoscere i fatti non solo del Mozambico, piuttosto che di quello che succede dall'altra parte del mondo, ma anche di quello che capita a casa nostra. Dobbiamo saperlo per poterlo trasmettere. Come dicevo prima, noi siamo tutti titolati a fare comunicazione a uso, la parola titolati non a caso, perché senza barcode tramite Facebook, che è il nostro social prediletto, ha da poco aperto un canale che si chiama SBTV. Non è una televisione, una web tv, è un canale di Facebook dove noi facciamo tutte le dirette e tutti i video, dove noi raccogliamo sotto quell'hashtag tutte le nostre informazioni video. Da lì abbiamo creato Pairos, che è il contenitore di tutti gli eventi culturali, quindi tutte le varie presentazioni, quindi anche le conferenze stampa, perché a volte noi abbiamo l'opportuna di vedere le conferenze stampa, di vedere le cose che a me nascono proprio dalle radici, no? Io sono stata alla conferenza stampa del concertone ultimamente e c'era Mogol. Mogol ha detto delle cose per me incondivisibili, però lui le credeva. La gente, le persone, l'utente del concertone non sa cosa ha detto Mogol, perché la stampa se ne è fregata di riportarlo. Parlava della direttiva copyright, ma era difficilissima in questo momento, poi non abbiamo abbastanza elementi per poterla giudicare, però insomma lui ha fatto un commento e nessuno sa cosa ha detto, tranne chi ha visto la diretta di Senza Barcode perché gliel'ho mandato. Quindi credo che il diritto e l'informazione sia anche lì. Mi sono divertita moltissimo al concertone, noi avevamo il pass stampa, che sembrava questa cosa fighissima. Io vi dico la verità, sono arrivata lì, mi sono trovata con altre 2000 persone, ho visto quattro parchette intere, tre forme di pecorino, quintale di fa, cioè mi sembrava veramente che ci rimpinzavano per poter dire quello che volevano loro. Siccome io a casa mia mangio, non ho bisogno di andare nel besteccio del concertone per mangiare, grazie CGL e CISLUBI, non mi serviva, magari lo davamo a qualcun altro quel cibo. Non è una retorica, è proprio che non ne ho capito il senso di stare in un recinto con un bellissimo tv al plasma, lì enorme, gigantesco, tutti i giornalisti. Che me ne faccio? Io volevo intervistare, volevo fare il D3 le quinte. Allora, per soddisfare i miei lettori, gli ho fatto il percorso inverso, gli ho fatti entrare con me nel backstage dei giornalisti e basta. e loro hanno potuto giudicare e mi hanno chiesto, beh, si è andato a mangiare. Io un'ora ho resistito, poi mi sono andato perché non era così divertente. E parlando di titolati e titoli, da luglio-agosto nascerà un programma, una sorta di programma, sempre sotto questo cappello di SBTV, che si chiamerà Disputandum, titolati senza titoli. Noi due, siamo due direttori, ma ce lo siamo dati noi? Quasi, sì. Chi ci ha dato questo titolo? Eppure abbiamo i titoli per farlo, perché abbiamo le capacità, perché, cavolo, ce la siamo sudata questa cosa. Quindi, io voglio qualcuno che venga a dirmi che io non ho il titolo. Cioè, il titolo, te lo dico io, non ce l'ho, però sono titolata a farlo. E come noi, tante altre persone, in tante altre materie, ora, certo che uno che è un pseudo medico, che si è dato il titolo di medico, abbiamo un attimo di difficoltà. Però, il mio esempio, che sarà probabilmente la prima puntata, tra virgolette, avete presente quante persone fanno la nail art, la ricostruzione delle unghie, ti vengono a casa, la fanno, sono bravissime, ti prendono due soldi e hanno imparato a farlo dai tutorial di YouTube. Io non ci vado, ma non ci vado a prima scelta. Perché mi posso permettere, grazie a Dio, di andare in negozio, di fare quattro chiacchiere con la tipa, che so che se mi si rompe un unghia, me la rifà e me la metto a posto. Conosco però chi spende 15 euro la tizia, gli va a casa e glielo fa. Ora, chi ha ragione? Vabbè, non parliamo del discorso finanza, tu non paghi le tasse e tutto quanto, ok. Io non sono la guardia di finanza, non sto parlando di quello, io sto parlando di competenze, di capacità e di esperienze anche, di informazione, di professionalità, di quello che ti pare. Chi ha ragione? Ho ragione io che spendo 40 euro? Ho ragione la tizia che se ne fa con 15 euro, gli viene a casa e magari gli offre pure il caffè? Ecco, io questo voglio metterlo a confronto. Poi succederà un casino, io lo so, la gente si picchierà, se tireranno per i capelli, arriverà la finanza, arriverà chiunque da me. Tanto ormai sapi che sono sotto botte della questura, della procura di Taranto, Palermo e Roma perché ogni tanto mi dicono che pubblico cose che non devo pubblicare. Poi gli chiedo, volete che le tolgo? E non mi rispondono più, restano lì fino a che non mi diranno qualcosa. Però, tanto ne metto una in più e che cambia. Allora, c'è la prima che ti arrestano, perché prima o poi ti arrestano. Ma prima che ti arrestano, allora ecco, dici quali sono i prossimi appuntamenti di Senza Barcode? Oh, tantissimi. Allora, vabbè, oggi è stato questo workshop che ci tenevo molto. È nato in 20 giorni, come tutte le cose che sono, secondo me, geniali. È andato molto bene, gli iscritti erano molti, molti erano in lista d'attesa, la metà sono venuti, come ho solito. Quando fai le cose gratis, poi pensano che non hanno valore, non avendo prezzo, no? Io glielo farò capire che hanno perso qualcosa. Lunedì, il prossimo, ci sarà un modulo, non più gratuito a pagamento, ma di approfondimento, quasi a prezzo sociale direi. Sono 10 euro l'ora che pagate, cioè, voglio dire, raga, finite. Dopodiché ci saranno gli altri moduli in base alle esigenze. Un appuntamento importante è qui, sempre in via Romanello, da Forlì, da Eroi del Pensiero, con Maria Novella De Luca, che è una fotografa molto brava, che ha fatto, diciamo, un viaggio per tutta Italia, insieme a pazienti di varie naturi, oncologici, cioè, scusate, un malato di isla, uno di fibromialgia, insomma, diverse malattie, e utilizzano tutti la cannabis per curarsi. Ci sono, la storia di queste persone, voi lo sapete benissimo, no? La burocrazia, i preconcetti, chi si cura con la cannabis. In questo libro c'è una bimba, una ragazzina piccola che si cura con la cannabis, e i genitori che chiedono a gran voce di poter accedere in maniera più semplice a questa cura, che non riescono a spendere, poi per i figli spendi qualsiasi cifra, si trovano a spendere cifre esagerate per poterla curare. E poi a giugno basta, io non sono più amica di nessuno, perché parto per altri lidi e torno a luglio. Luglio carichi come non mai, perché dal 4 luglio si comincia subito con un altro libro, un'altra presentazione. Elena Gennaro Santoro da Torino, dal salone, arriva qua direttamente. Dopodiché tutto, un continuo, presentazioni, con 6 senza barcode, la rassegna letteraria, e le trasmissioni di SBTV. Perfetto, informazioni, approfondimenti e contatti su? Senzabarcode.it, nuova grafica, divertitevi. Poi c'è una sezione che si chiama Noi altrove, e naturalmente in prima linea c'è Libre TV. Grazie, grazie a C'è la bocca. Grazie a C'è la bocca.